Il Catania comincia la nuova stagione, i giocatori si sono ritrovati a Torre del Grifo, in realtà all'appello dei convocati che sono 29, ne mancano due, Lodi che sarà domani in gruppo e poi Scoppa che arriverà martedì, ma vi stavo dicendo che oggi comincia la nuova stagione per il Catania, un Catania che però deve ancora essere completato, sono tante le operazioni di mercato che il Catania ha ancora aperte. L'avventura è ufficialmente iniziata, con tante facce nuove e con grande entusiasmo, perché questa può essere davvero la stagione della svolta. Il cammino del Catania verso la prossima Serie C ha preso il via con il Raduno, che apre di fatto la fase del ritiro che la società ha scelto di fare proprio a Torre del Grifo. Il gruppo è già gremito, ma qualche altra sorpresa arriverà in corso d'opera. La società ha in mano l'accordo con il difensore dell'Andria, Ramzi Aya, bisogna definire i dettagli con la società pugliese, ma a questo punto con la volontà del calciatore dovrebbe essere tutto più semplice. E invece è ancora un po' complessa la trattativa che potrebbe portare in rossa-azzurro Rashid Arma, attaccante del Pordenone. Il marocchino ha ricevuto una concreta proposta dal Catania e sembra disposta ad accettarla, deve però definire la sua situazione con la società friulana. Non è facilissimo, ma è possibile. Arma resta la prima scelta rossa-azzurra per l'attacco e un calciatore di sicuro spessore che potrebbe completare un reparto, peraltro, già rafforzato dal ritorno di un Anastasi rinvigorito dalla buona esperienza di Messina. Le uniche vere variabili sono legate alle altre offerte che il calciatore ha già ricevuto. Su di lui ci sono Pisa e Triestina. Il Catania vuole ovviamente evitare una pericolosa asta. Il mercato, in ogni caso, ai rossazzurri servirà solo per puntellare un organico che è già più che competitivo. Ora è tempo di cominciare a lavorare per trasformare una rosa forte in una forte squadra, capace di far dimenticare gli ultimi anni in chiaroscuro alla tifoseria rossazzurra.